Sì, veramente adesso a testa calda faccio fatica a parlare, posso solo ringraziare tutti, ringraziare i miei compagni perché sappiamo tutto quello che stavamo facendo questo anno, tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, alla fine abbiamo centrato due obiettivi che ci siamo opporsi all'inizio dell'anno, rimane peccato per lo scudetto, però l'Inter ha vinto secondo me, secondo tutti, meritatamente assolutamente, comunque avevamo una finale oggi con una... Ancora sul divano, guarda l'interno, le faccio complimenti pure a loro, sto già pensando come vincere tanti altri. Hai disputato una partita da Leone, hai lottato tantissimo, tu e i tuoi compagni a difendere il tuo gol, c'è stata anche l'occasione del raddoppio che è stato annullato, però non vi siete mai disuniti, la domanda è come mai ultimamente in campionato non vi riuscivano a partire così? Secondo me siamo entrati in un momento dove avevamo fatica di uscire, però io posso garantire che noi non abbiamo cambiato niente, questo era il nostro massimo in quel momento, ci girava pure male, però abbiamo centrato l'obiettivo Champions, abbiamo centrato l'obiettivo Coppa Italia e siamo molto contentissimi, ma come ho detto non ci dobbiamo soddisfare perché l'anno prossimo dobbiamo puntare a vincere tutto, perché siamo nella Juventus e i tifosi e DNA di questo club chiede questo.